Mi chiamo Umberto Mandelli, ho 32 anni, vivo a Lecco e ho un'azienda apistica che si chiama Le Api di Spino. L'azienda è nata nel 2008 e conta circa 200 alveari. Faccio apicoltura nomade e produco miele vergine integrale, monoflora e millefiori. A fianco alla produzione di miele una collaborazione con un'altra azienda per la selezione e la produzione di api regine di razza ligustica. L'azienda è nata dalla passione per questo lavoro che ho imparato in un'altra azienda e sono laureato in agraria. Nel contempo ho lavorato anche come tecnico presso un'associazione apistica regionale facendo assistenza tecnica alle aziende della provincia di Comodi, Lecco e di Sondrio. Diciamo che a un certo punto ho deciso di mettere in pratica tutto quanto avevo studiato e imparato in un lavoro che mi desse un po' più di soddisfazione mio personale. Produco per l'appunto miele monoflora e millefiori in Lombardia, nelle province di Lecco, province di Pavia, Lodi e fino alla Maremma Toscana. Produco circa 7 tipi di miele, 8 tipi di miele all'anno a seconda delle condizioni. Lavoro in alta montagna, il miele viene confezionato in un laboratorio e poi venduto direttamente al consumatore tramite mercati, fiere, con l'aiuto di mia moglie. L'azienda commercia direttamente e il contatto con il cliente ha permesso di migliorare e anche di andare incontro alle esigenze stesse dei clienti. Il miele che produco è un miele biologico e gestisco circa 200-250 alveari. Oltre alla produzione di miele, con un'altra azienda, sono specializzato nella produzione di api regine di razza ligustica e nella selezione e mantenimento della razza. Ho fatto richiesta di contributo nel 2009, questo perché quando sono partito avevo bisogno di un aiuto. Parte del finanziamento è stato dedicato all'acquisto di un mezzo consono a fare questo mestiere e invece parte sempre del contributo è stato utilizzato per l'acquisto dei terreni che prima erano in affitto e adesso sono di proprietà dell'azienda. Questo lavoro mi impegna dalla mattina alla sera e molte volte soprattutto in certi periodi anche la notte perché essendo un apicoltore nomade devo spostare gli alveari per inseguire le varie fioriture. Tutto questo mi costa tanta fatica e questa fatica è diciamo ripagata dalla passione per le api e per questo lavoro.